Condannati a quattro mesi per resistenza e violenza pubblico ufficiale, pena poi patteggiata e sospesa nel processo per direttissima che si è svolto questa mattina presso il tribunale di Pesaro, i due cittadini moldavi che hanno aggredito nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, gli agenti della volante del commissariato di Fano intervenuti per la musica ad alto volume e gli schiamazzi nel cortile di un caseggiato di torrette di Fano chiamati dai residenti esasperati. I due energumeni facevano parte di un gruppo di una quindicina di persone, protagonisti di una festa improvvisata degenerata presto in urla, alcol e musica a tutto volume proveniente dagli altoparlanti di una delle loro auto parcheggiata nel cortile ed usata a modi DJ, alla faccia di chi a quell'ora avrebbe il sacro santo diritto di riposare. Gli uomini della volante sono prontamente arrivati sul posto ma al loro arrivo, dopo aver intimato al gruppo di spegnere la musica e abbassare i toni della voce, sono stati affrontati in modo spavaldo da due uomini di 25 anni staccatisi dal gruppo più alticci degli altri che prima a parole e poi con le mani hanno aggredito i due puliziotti, i quali essendo in una condizione numerica sfavorevole e per non far degenerare la situazione con grande freddezza e professionalità dopo aver individuato i due aggressori si sono disimpegnati dalla situazione in attesa dei rinforzi. In poco tempo sono arrivati una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri di Fano ed una pattuglia della stradale che assieme ai due colleghi della volante hanno arrestato i due moldavi in evidente stato di ubriachezza e condotti nelle celle di sicurezza del commissariato in attesa del processo per direttissima di questa mattina. Uno dei due agenti aggrediti poi è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso di Fano per graffi profondi al braccio e al collo e dove gli è stata prescritta una prognosi di 5 giorni. Questa mattina i due moldavi, uno dei quali già con precedenti simili residenti a Fano e di professione operai, sono comparsi davanti al giudice che ne ha convalidato l'arresto e hanno poi patteggiato la pena che poi è stata sospesa.